Abbiamo pensato di allestire questa mostra con delle cartoline antiche, forse intorno agli anni 40, 50, 60, che rappresentano appunto come veniva vissuto, come veniva regalato il Natale negli anni passati. Uno spaccato diverso, uno spaccato che si serviva della scrittura, che era la cosa più bella, si serviva della scrittura, la quale poi traduceva i sentimenti di ognuno e quindi si inviavano auguri, si colloquiamo in questo modo. E oggi non c'è più perché ci sono le SMS, c'è questa tecnologia, questi media che hanno invaso un poco quella che è la nostra vita e che molte volte ci hanno privato anche di sentimenti un poco più profondi. La mostra si svolgerà nel Palazzo Pinto, appena ristrutturato, e sarà aperta dal 22 dicembre al 30 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20. Quindi chiunque vorrà visitare, e oltre alle cartoline, qualche privato, qualche amico, qualche socio ci ha fornito anche alcuni pezzi di arte presepiale che noi esporremo in quell'occasione.